b familiare cappotto per 110 la coibentazione di un terrazzo 36 metri quadri al 110 al 90 il terrazzo è un quarto del tetto tre quarti è tetto che non viene toccato allora il 90 sicuramente no perché il terrazzo è una di quelle superfici che non rientra nel bonus facciate il 110 sì perché non può rientrare la coibentazione del terrazzo fatta esternamente in una bifamiliare equivale a fare un intervento sulle parti comuni anche se il terrazzo potrebbe anche essere esclusivo di qualcuno comunque si fa sulla parte esterna quindi rientra nel nell'incidenza del 25 per cento nel calcolo dell'incidenza della superficie e può essere un intervento agevolato al 110 forse la questione che mi fai è relativamente un quarto del tetto e tre quarti è tetto che non viene toccato non ho ben capito questa questione ma il terrazzo al 110 cioè l'isolamento del terrazzo isolamento la coibentazione del terrazzo è una di quelle opere che può rientrare bene 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 in nel superbonus tindarò ciao 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 ciao